I cani sono animali molto interessanti da osservare, specialmente quando dormono. Come noi esseri umani, anche i cani hanno bisogno di dormire ogni notte per riposare e ricaricare le energie. Ma come dormono esattamente i nostri amici a quattro zampe? Dormono come noi di notte o hanno abitudini differenti? In questo articolo analizzeremo nel dettaglio il sonno dei cani di notte e vedremo se è simile o meno a quello degli esseri umani. Innanzitutto, è interessante notare che i cani tendono a dormire molto di più rispetto agli umani. Un cane dorme in media tra le 12 e le 14 ore al giorno, mentre gli esseri umani dormono solitamente tra le 7 e le 9 ore. Questo perché i cani seguono cicli e sono veglia differenti e hanno bisogno di più riposo quotidiano. Tuttavia, come noi, i cani prediligono dormire di notte e sono più attivi durante il giorno. Quando arriva la sera, la maggior parte dei cani tende naturalmente a prepararsi per andare a dormire proprio come faremmo noi. Cercano un posto comodo, si sistemano nella loro posizione preferita, spesso rannicchiandosi su se stessi, e si addormentano. Proprio come noi, anche i cani attraversano diverse fasi del sonno durante la notte. La prima è quella della sonnolenza, in cui il cane inizia a rilassarsi ma può essere facilmente svegliato. Poi passa alla fase del sonno leggero, in cui il respiro si fa più profondo e regolare. Infine, raggiunge la fase del sonno REM, in cui si ha la massima attività cerebrale e si verificano i sogni. I cani sperimentano diversi cicli di queste varie fasi del sonno durante la notte, alternando momenti di sonno profondo a fasi di sonno più leggero. Proprio come gli esseri umani, anche loro possono svegliarsi brevemente nel cuore della notte, per poi riaddormentarsi rapidamente. Inoltre, come noi, molti cani tendono a russare e a muoversi o agitarsi mentre sognano durante la fase REM. Ci sono però anche alcune differenze rispetto al nostro sonno. I cani tendono ad addormentarsi molto più velocemente, mentre noi umani impieghiamo più tempo per prender. Grazie per aver guardato. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticare di mettere mi piace, condividere e iscriverti per altri contenuti simili a questo. Resta sintonizzato per il nostro prossimo video.